Musica, teatro e cinema sono i protagonisti del Soveretto Festival 2021 che si tiene nel borgo terlizzese. Sentite. Al via il Soveretto Festival, la non edizione del prestigioso contenitore di musica, teatro e cinema, incorniciato dal bellissimo borgo medievale di Soveretto, che come lo scorso anno presenta la novità della sua location nella prima serata. Partiamo da questa piazza meravigliosa nel centro di Terlissi e ci spostiamo nel borgo di Soveretto, da cui prende il nome appunto il Festival, Soveretto Festival. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, torna il Soveretto Festival anche quest'anno? Anche quest'anno sì, ci sarà il Soveretto Festival e la sua non edizione. Siamo riusciti a realizzare una continuità importante che sta reggendo anche i momenti critici. Quanto è importante il Festival per tutto il nord barese? Credo che abbia importanza per un territorio di riferimento, perché è diventato oramai un punto di riferimento per la musica di qualità. Il borgo di Soveretto costituisce comunque un luogo attrattivo già di per sé e credo che ci sia una combinazione ideale tra storia, musica, arte e cultura. E credo che sia effettivamente una combinazione di fattori positivi per il territorio. È un Festival che va avanti, è giunto alla nona edizione, con continuità grazie all'amministrazione comunale, grazie al sindaco Gemmato, bravissima persona, che ha creduto in questo Festival sin dalla prima edizione. Un invito a venire per chi non ha mai vissuto il Soveretto Festival? L'invito è quello di venire a Soveretto, di assistere al Soveretto Festival, vedere la bellezza del borgo di Soveretto. Sicuramente ne varrà la pena.